grande grande alessandro senti sono contento di essere qui allora devi sapere che un periodo più o meno un anno fa ho pensato così un po solleticato da questa curiosità nei confronti del mondo dei new media ci conosciamo da più di qualche anno e immagino che tu fin da quando ci siamo incontrati abbia capito che non è che fossi una persona a cui piaceva particolarmente apparire insomma avere grande visibilità poi in realtà attraverso una serie di coincidenze mi è venuta questa curiosità di capire il mondo della rete e quindi è incominciato questo dialogo questo dialogo che è fatto in realtà avevo incominciato con un blog raccontando delle mie passioni in altre parole il mio mestiere come tu sai è quello di far crescere la piccola e la media impresa e di farlo con dei ragionamenti laterali pensando a dei significati anche di tipo sociale pensando anche a una maniera curiosa che sfrutta la discontinuità io dico cioè il coraggio di guardare alle cose per quello che potrebbero essere e non per quello che sono insomma in tutto questo grande ragionamento è nata la possibilità di avere un dialogo perché mi piaceva piacere raccontare un po' quali fossero i miei parametri le mie curiosità sentivo anche questa questa necessità da parte dell'esterno di sapere di più del mio lavoro quindi è incominciata lunga storia corta questa piccola rubrica che faccio nella rete in cui parlo delle cose che mi interessano che possono essere l'economia i giovani il futuro lo sport e uno dei grandi temi è l'arte no io poi ho avuto la fortuna di conoscere gente come te che mi ha aperto un mondo straordinario ho deciso che poteva essere un'idea man mano che questo dialogo con la rete diventava sempre più intenso potesse essere un'idea quella di portare degli specialisti anche perché mi sento un po' timido per cui dico vabbè fino a un certo punto spiego in maniera così arcaica e superficiale e molto spontanea cosa è l'arte e l'economia invece magari ci capisco un po' di più poi attraverso questo dialogo e i buoni risultati la rete ha incominciato a chiedermi ma perché non ci fai parlare con qualcuno che e quindi è nata questa 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 nuova nasce questa nuova versione della rubrica allora l'arte ti dico subito io quello che ho detto dell'arte è che mi appassiona mi interessa mi piace mi piace l'aspetto soprattutto estetico evidentemente però poi insomma con il tempo tu mi insegni ci si arriva anche insomma a dare una a portarsi a un livello di conoscenza superiore e io sostanzialmente a quelli che hanno la pazienza e il divertimento di ascoltarmi ho raccontato che per me l'arte significa il significato degli artisti pensare al futuro pensare al cambiamento pensare a il coraggio di essere discontinui no il coraggio di vedere le cose non per quello che le vedi oggi ma per come te le immagini per come le sogni per come dovrebbero essere per come potrebbero essere per come non dovrebbero essere quindi per me avere la fortuna di essere qui oggi con Omar Hassan che è un artista che tu sai prima di tutto oltre a piacermi come persona mi piace proprio la tua arte voleva essere un po' un'occasione per raccontare insomma poi come si vive invece l'arte in termini di emozioni cosa comporta oggi essere un artista e quindi mi faceva piacere fare questa chiacchierata e poi vedere anche magari più dal vivo cosa vuol dire l'arte e questa nuova forma di action painting alla Pollock che tu hai interpretato ma sostanzialmente ecco farti conoscere e soprattutto capire in questo dialogo se è vero che alla fine la bellezza salverà il mondo sì assolutamente quello sicuramente come dicevi prima sicuramente noi artisti siamo da sempre un po' anticipatori no quindi in un certo senso abbiamo proprio anche questa responsabilità cioè ci assumiamo proprio una responsabilità oggigiorno fare un quadro decidere di fare un'opera d'arte per me è proprio assumersi una responsabilità e quindi credo che assolutamente le belle arti sono belle perché sono anche buone quindi in qualche modo il bisogno d'arte nel mondo salverà veramente le anime cioè io lo faccio perché ci credo tantissimo io ho scelto l'arte in particolare proprio perché è un po' l'unica cosa che resta di noi qui no quindi assolutamente attraverso un quadro noi artisti continuiamo a vivere ci esprimiamo alla fine per quello che facciamo assolutamente senti poi tu tra l'altro leggevo una tua intervista tu hai incominciato come street artist no poi insomma ed è così che hai incominciato ad esprimerti anche lì cercando di donare la bellezza che riuscivi a provocare poi un po' hai capito che dovevi passare a una fase seguente ecco spiega spiega un po' anche che cosa vuol dire no c'è uno prende qualsiasi catalogo di artista e vede che parte da dipingere bene le cose copiare gli altri e poi si evolve e trova la sua strada la sua personalità per te com'è stato per me il partire dalla street art proprio analizzando proprio il termine della parola era proprio perché non potevo dipingere né mia madre né sui muri di casa e quindi andavo automaticamente in strada perché non avevo alternativa quindi non ho propriamente attraversato questa cultura della street art appieno nel senso che non riuscivo a dipingere nel notturno ed essere associato più al writing che alla street art però utilizzavo quello che dico condividevo lo stesso museo e lo stesso strumento cioè la strada e lo spray però sempre cercato di fare un qualcosa di diverso dal graffito ecco quindi sì parto dalla street art in quanto appunto dipingevo proprio in strada poi tu invece hai voluto fare un percorso poi dopo sei andato a scuola mi sono iscritto in brera ho avuto la fortuna e lo ripeterò sempre di avere come maestro alberto garutti che è un artista contemporaneo concettuale che stimo tantissimo da lì ecco è come aver come se mi avessero detto guarda questa qui è l'acqua calda e tu dici a cavolo l'ho sempre usata è una cosa bellissima cioè proprio io da ignorante al lavoro nel senso che comunque arrivavo da un liceo scientifico quindi di arte non sapevo non conoscevo più di tanto quando sono arrivato in accademia ho proprio capito che era quello lì il mio mondo quindi sono andato a ristudiarmi tutto dall'inizio con alberto di fianco che dava dell'ignorante giustamente ma proprio perché si ignorava la materia di cui uno si voleva occupare io credo che qualsiasi mestiere qualsiasi lavoro una persona voglia fare debba sapere un minimo di storia anche fondamentali vanno con voglio dire anche la storia del pane va conosciuta come veniva fatto prima che fornicerano se ti vuoi occupare di quello quindi in questo ringrazio sempre alberto garutti che in brera ma proprio aperto questa questa visione senti tu sei figlio del tuo papà egiziano sul mano tua mamma italiana cristiana cattolica e questo ti ti ha arricchito immagino no è talmente è assolutamente credo il mio punto di vantaggio perché comunque grazie a dio i miei genitori sono due persone molto intelligenti che nonostante con due bandiere diverse chiamiamole così fondamentalmente credono nella stessa cosa quindi sono cresciuto con due punti di vista che poi comunicavano la stessa la stessa energia che era questa fede pazzesca quindi io dico sempre che l'unione di più culture di più cose arricchisce sicuramente quindi io assolutamente fortunatissimo di vivere due culture quindi per me è stato un punto di forza nella mia ricerca di artista l'arte c'è il mondo del web c'è instagram io sono un po scarso fa bene o fa male all'arte allora ecco perché sembra che viviamo una fase in cui tutti sono appassionati di arte contemporanea tutti diventano specialisti allora da una parte un po in tutte le cose però il mondo dell'arte in particolare sta vivendo questo nuovo rinascimento se vuoi è buono o non è buono allora come tutte le cose ai lati buoni e i lati negativi nel senso che io credo che anche un social come facebook io personalmente non ho però credo che usato nella maniera con la quale è stato ideato cioè il rincontrare amici di vecchia data e riconnettersi con persone con le quali non si ha la possibilità di vedersi allora penso che sia una cosa potentissima cioè di un concetto veramente pazzesco ha velocizzato la maniera di lavorare i rapporti cioè è una cosa veramente forte il lato negativo è che quando come tutte le cose viene strumentalizzato ecco porta anche a una degenerazione proprio del concetto quindi il rischio è quello lì io personalmente ho solo instagram che lo trovo invece molto più intelligente e funzionale nel senso che comunque ognuno è libero di postare ciò che meglio crede e adesso purtroppo si inizia a vedere ancora diciamo questa massa di gente che non lo so per quale motivo si mette su una tastiera e si mette solo per puntare il dito per giudicare instagram fino a pochi anni fa non aveva neanche questo nel senso che tu se una cosa non ti piace non la vuoi seguire non la segui non metti il like che finiva lì l'accanimento del commento era ancora un po' lontano adesso purtroppo anche su instagram sta accadendo però sì non so se tu sei d'accordo a me sembra che stiamo vivendo questo momento storico dove antropologicamente succedono un sacco di cose nuove ci appassionano ci piacciono però allo stesso tempo anche ci impauriscono le vivi anche tu in questa maniera queste cose più che altro io vivo una una velocizzazione proprio del tempo che non ci permette più di apprazzare veramente le cose cioè io noto che non anche per noi artisti per esempio non so gli artisti precedenti a noi hanno ottenuto un riconoscimento e comunque hanno prodotto una ricerca diciamo con lo stesso stile passatemi il termine per tanti anni e non gli è stato richiesto con questa foga un qualcosa di nuovo siamo talmente bombardati da immagini e da cose che ci stanchiamo subito della prima cosa nuova è questa cosa che non fa più apprezzare nel tempo nelle cose perché è tutta un'accelerazione appena arriva una cosa quello che si diceva una volta che quello che veramente ti dà gioia è anche l'aspettare le cose desiderarle sognarle conquistarle attraverso il tempo è sparito tutto amici che lavorano nella moda lavorano sull'anno certo di un anno e mezzo dopo se saprai bene che si lavora con troppo cioè non ci si gode neanche la tua prima serie immediatamente devi pensare a trovare la seconda serie altrimenti a me piace il pensiero di qualcuno che dice che forse bisogna tornare proprio ai classici no ai classici agli antichi greci e insomma chi sapeva pensare lontano dalla risposta immediata perché a me sembra questo lo vedo soprattutto nell'economia mi sembra anche un po nella politica si sia creato questo linguaggio in cui siamo costretti a dare le risposte a tutto e a subito e non ci diamo il tempo di pensare a medio lungo termine questo vale per esempio nel mondo dell'impresa è assolutamente un problema questa pressione della finanza che vuole i risultati trimestrali anche nell'arte succede un po di questo nell'arte si può succedere può succedere però diciamo che l'artista vive ancora di una libertà di tempo da gestirsi cioè come diceva Michelangelo Pistoletto noi abbiamo una libertà che deve essere responsabile perché comunque dei tempi te li devi dare altrimenti si va nel caos certo quindi noi diciamo che abbiamo questa fortuna il problema è che la società di conseguenza ti impone una velocità perché chiaramente ogni artista a suo modo deve pur mangiare quindi non può impiegarci quei tre anni per fare un'opera sola oddio benvenga se può farlo perché avrà comunque un altro lato economico che lo supporta quindi nello stesso tempo però abbiamo la possibilità di gestirci questa cosa quindi possiamo metterci tre anni a fare un quadro nostro rischio pericolo però possiamo permettercelo ecco perché siamo noi autori di noi stessi quindi possiamo decidere il tempo senti Omar breaking through un passaggio molto importante della tua carriera un recital insomma un'installazione una forma come dicevo prima di action painting moderna tu metti assieme due passioni no quella del gesto un fatto evolutivo Omar è stato appunto ha avuto un grande successo su una sua iniziativa su un nuovo modo di fare l'arte che è quella di mettendo che lui ha conquistato mettendo assieme due grandi passioni che era quella del pugilato e dell'arte ci dici due parole su cosa consiglio poi magari ci fai vedere anche qualche cosa no assolutamente io sto bene attento no perché tu come come dici tu dai pugni per costruire non per distruggere io dico sempre che I'm not punching to destroy I'm creating cioè non picchio per distruggere ma in realtà creo proprio perché io ho fatto questo sport per tanti anni e credo che sia la metafora di vita per eccellenza cioè credo che ognuno di noi sia un pugile perché ognuno di noi ha le proprie croci insomma se si va a terra bisogna rialzarsi e credo che questo sia proprio metafora di vita totalmente totalmente quindi volevo premiare nella mia ricerca pittorica questo aspetto concettuale di questo sport che molte volte sai magari viene visto con un occhio un po solo sul fatto di due persone che si picchiano quindi può risultare un po ignorante violento in realtà a me ma educato proprio come uomo quindi penso che se insegnato con intelligenza possa veramente crescere i ragazzi e dare un veramente un valore etico alla tua vita quindi l'ho voluto celebrare in questa serie di 121 quadri sono 121 quadri unici il numero tu sai che ho un affetto particolare per il numero 21 ah giusto è vero non l'ho fatto neanche apposta 121 perché sono i round che ho disputato io quando facevo il pugile quindi purtroppo è passato il fatto che sembra che sono tyson che si sia messo a fare i quadri perché non ci sarebbe niente di male però mi va a togliere un po appunto quella parte e invece quando è che in realtà hai scoperto che eri un artista che ti interessava l'arte guarda come ti ho detto prima è stata una presa di coscienza giorno per giorno soprattutto in accademia cioè rivedere studiare gli artisti del passato rivedere proprio vivere l'accademia mi ha fatto capire che io certe cose le facevo già da piccolo quindi cioè non lo so leggevo di baschià che disegnava i muri in casa cioè io ho preso tante di quelle botte da mia madre perché mi dipingevo le scarpe e i muri continuamente che comunque non aveva senso che un bambino di tre anni avesse questa pulsione fissa ad andare sul muro a disegnare poi la ritrovi sai nelle biografie degli altri artisti dice vabbè allora vedi che comunque c'era già no qualcosa ed è un po una presa di coscienza non è che un giorno dici oh sono un artista piano ancora adesso a volte me lo chiedo cioè nel senso però credo proprio di sì no perché molte volte non potrei fare altro quindi è una cosa che vale un po per tutti no che quella che io come imprenditore uomo di economia mi sento tante volte chiedere dai giovani a me piace questo dialogo perché proprio attraverso questo dialogo che capisci dove potenzialmente può andare il mondo o anche quali sono i grandi interrogativi no e una delle domande è proprio quella ma quando è che hai capito che eri tu e che cosa sapevi fare e quella che era la tua chiamiamo la vocazione e penso che sia vero quello che dici tu in qualche maniera hai un fatto estintivo che a un certo punto incominci a disciplinare incominci a capire che è il tuo e incominci a vedere che c'è una passione che c'è un interesse perché poi alla fine ti diverti e vedi che tu riesci ad accettare anche il cambio il cambiamento in te stesso no perché poi alla fine abbiamo degli aspetti noi nella vita che rimaniamo sempre uguali per per alcune ragioni ma se vogliamo essere al passo dobbiamo continuare a cambiare ecco questo fatto del cambiamento quindi delle fasi per un artista che abbiamo detto esattamente come come funziona cioè vengono da solo una mattina ti svegli e dici cacchio vorrei provare a fare quella cosa ognuno ha la sua la sua storia chiaramente nel senso che molte volte la ricerca è proprio spontanea cioè tua di proprio di tua volontà che vuoi ricercare un determinato argomento una cosa in particolare altre volte magari è dettata dal numero di mostre allora bisogna fare dei lavori diversi perché magari sei esposto contemporaneamente quindi non vuoi proporre la stessa cosa allora lì scattano dei tempi magari che ti accelerano la tua produzione però in linea di massima credo che ogni artista decida il percorso e la strada e la percorra giorno per giorno giocando in studio viaggiando in discussione conoscendo tutto ciò che si può conoscere veramente cioè la curiosità è penso una delle caratteristiche principali che deve avere un artista si vale per tutti poi in realtà c'è la ricerca del miglioramento continuo e poi come tutte le cose ci possono essere degli scalini c'è il momento in cui ti viene quell'intuizione in più ma non sai se è figlia di un lampio di genio che è arrivato il giorno prima ma probabilmente invece è solidificata nel tempo perché tu hai accettato di di metterti in discussione no hai accettato di però tanti artisti infatti tirano fuori nel momento di maturità totale opere che in realtà avevano pensato magari vent'anni prima questo è bellissimo ah ecco succede questo si è bellissimo credo perché a un certo punto è proprio l'artista che raggiunge una maturità di linguaggio che poi riesce a dare più forza anche al lavoro magari no quindi sentiamo a tu cosa dici a questi che dicono quando vedono un taglio di fontana un cretto di burri un pugno di assa un pugno di assa che dicono questo qua lo potevo fare anch'io tu cosa gli rispondi vabbè la prima risposta è quella però non l'hai fatto che è un palese diciamo però no vabbè lì ci si fa una risata gli dico beh in effetti è vero si gli do ragione poi la prossima volta prova a farlo tu per primo da oscar wilde o anche albertazzi esprimevano il concetto che i grandi copiano i mediocri imitano nessuno inventa nulla è tutta una ripresa di ciò che anche inconsciamente noi sappiamo già cioè quando una una grande idea forse 500 anni prima dall'altra parte del mondo quell'idea se già già accesa ha viaggiato ha viaggiato e poi è arrivata lui se vai ad analizzare oggigiorno uno non può guardare un'opera d'arte andare a cercare cosa assomiglia se non vive più nessuno come per gli antichi gregi bisogna sempre analizzare il pezzo di marmo c'era già la statua c'era solo qualcuno che la tira fuori credo che veramente sia sia questo uno dei punti fondamentali ecco un'altra cosa il spinosa o perlomeno una grande discussione e ti dico anche dal mio punto di vista come collezionista e come fruitore in diretto del mondo dell'arte mi fa interrogare che è quello delle gallerie e degli art dealer no è un sistema che funziona o è un sistema vecchio che fa fatica ti faccio un esempio nel mondo dell'impresa nel mondo dell'economia parte del mio lavoro durante questi questi dialoghi con il pubblico anche quella di trovare le analogie no che secondo me poi alla fine visto che siamo tutti uomini esistono delle problematiche simili per tutti no ciascuno di noi cerca di andare avanti di dare il meglio di dare il meglio di se stesso di tirare fuori le qualità più importanti che ha essere valorizzato essere apprezzato quindi cerco le analogie tante volte nel mondo dell'impresa o anche in alcuni settori si fa fettica andare avanti perché ci sono delle vecchie incrostazioni no ci sono degli automatismi vecchi vale anche per il mondo dell'arte il mondo dei mercanti un po da questo punto di vista credo che il mondo dell'arte sia bene o male rimasto sempre lo stesso cioè con la figura del gallerista del mercante che adesso sta venendo un po sostituito da questo art arvaito art dealer una figura che non capisco ancora molto bene cioè una persona che si infila in mezzo a delle trattative io personalmente non ho mai lavorato con art dealer ma semplicemente con delle gallerie direttamente per fortuna e purtroppo la galleria è necessaria a un artista che è comunque aiuta a seguire anche non so il vero mercato dell'arte che quindi è basato anche sul valore dell'opera stessa basato sulle aste quindi insomma c'è bisogno di qualcuno che segua questo noi artisti da soli oddio io a meno che appunto non parliamo già di damia nirsto anish kapoor ma comunque anche loro sono appoggiati da gallerie ci sono tanti grandi artisti che sono comunque appoggiati da altrettante grandi gallerie quindi diciamo che è un doubt des necessario assolutamente il fondo anche adesso banalizzo un po però un buon pugile senza un manager che organizza gli incontri o un grande attaccante senza la juve il milano l'inter di turno non ha possibilità di esprimersi al meglio in quel campo assolutamente c'è bisogno in ogni caso di appunto una cornice un'organizzazione che permetta a ciascuno di fare il proprio ruolo esattamente cioè io comunque dipingo e mi fermo lì cioè giusto poi oggigiorno è molto importante essere anche imprenditore di se stessi perché è proprio importante il linguaggio per difendere la tua opera d'arte quindi l'artista deve anche essere un po imprenditore di se stesso proprio ma anche nei confronti del gallerista perché il gallerista deve trovare un artista sicuro del proprio lavoro senti nel novecento gli scrittori andavano a vivere sotto i ponti con il senza tetto per provare quelle emozioni e andare al dunque dei sentimenti e potersi immedesimare in quello che raccontavano l'artista come lo fa questo se lo fa ma io personalmente vivo delle realtà che passano appunto dalle 5 stelle a penso al parchetto meno due quindi è fondamentale per un artista vivere più sensibilità possibili più realtà possibili più esperienze possibili più contesti possibili perché è tutta fonte di ispirazione tutta fonte di ricerca tutti input che possono portarci a qualcosa quindi a me piace tantissimo per assurdo quando vado a Miami faccio la fiera di art base la mia mostra e tutto quanto vedo personaggi pazzeschi che anche a me sembravano inarrivabili ho conosciuto persone importantissime Spike Lee grandi attori di Hollywood e prendere un aereo e tornare e fare una pizzata con i miei amici della palestra all'ambrate esattamente 24 ore dopo e 24 ore prima Robert De Niro ha persato un bicchiere d'acqua che stavo sciogliendo così però sono realtà necessarie perché da una parte ripianti i piedi a terra e dall'altra non perdi la tua dimensione esatto certo senti tu sei un artista fidanzato con un artista cosa cosa vuol dire allora il fatto che siamo assolutamente sì perché lei è una grandissima cantante quindi il campo della musica ti dico subito che dopo dobbiamo fare una fotografia e farci riprendere perché altrimenti i pugni li prendono le tue tele li prendo io dai miei figli questa sera che mi dicono che non ho accolto l'occasione no no assolutamente ci mancherebbe no però esatto il fatto di avere due arti diverse è bellissimo perché io sto imparando tantissimo di musica altrettanto lei si appassiona di pittura e di scultura quindi c'è uno scambio veramente figo perché super figo sì totalmente perché comunque io che tra l'altro la musica la adoro l'ho fatta anche un po' suonato lei ha sempre disegnato quindi diciamo abbiamo ritrovato anche le nostre vecchie passioni che non si facevano più da tanto lei adesso uscirà con un libro proprio di illustrazioni quindi no no devo dire che è assolutamente positiva come cosa bene fantastico assolutamente adesso cosa è previsto ti vediamo al dunque posso posso prendere uno di questi sì sì vai questo poi parole dai di due parole è questo che dire questo qui è diventata poi una scultura è bello io praticamente vabbè adesso il quadro che è qui dietro è è già intelaiato quindi è un quadro a tutti gli effetti però generalmente io monto la tela srotolata su questo pannello dietro che è un pannello di legno di mdf e in modo che mi permetto di picchiare molto forte cioè quindi di esplodere proprio tu gli dai pugni come se gli stessi dando sul serio sì sì assolutamente sì 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 carico al massimo tant'è che adesso ho anche un piccolo infortunio al legamento che devo far vedere infatti sono a 108 quadri adesso devo fare una piccola pausa a causa spalla perché comunque picchio una superficie molto dura quindi il contraccolpo mi ha fatto un po di danno però è sì sì mi immagino l'ortopedico o la compagnia di assicurazione che gli dice mi sono fatto male dice causa dell'infortunio stavo dipingendo si si sorridono sempre molto anche alla risonanza e niente quindi questa cosa stupenda questo è proprio diciamo che insomma tutta la mia ricerca pittorica è un po alla ricerca di un gesto pittorico di sintesi l'ho fatto con il pallino che arriva appunto dalla bomboletta spray e con questo pugno cioè i miei idoli sono da sempre fontana appollo artistiche con un gesto hanno sintetizzato un intero pensiero un'intera filosofia quindi io ho sempre proprio cercato un gesto di sintesi quindi questo pugno che arriva forte deciso panno un segno netto lo spruzzo dove ho fatto anche la copertina della lettura col corriere della sera questo spruzzo che ripeto metodicamente ogni giorno e creo questa luce anche quello è un po la sintesi di tutta questa street art che parte dalla bomboletta no perché per far partire questa bomboletta dobbiamo far tutti questo pallino che cola quindi è il primo vero respiro di tutta questa di tutta questa cultura e anche il pugno insomma ecco voleva essere appunto un una celebrazione di tutti questi gesti bello stupendo bravo grande sentimi fai vedere un po di opere assolutamente facciamo un giro vedete il pavimento è stato il mio pavimento per due anni e questo qua è questa è la copertina è di là adesso te lo faccio vedere vedi questo e questo qua e questo invece è dietro questo e questo che misura è sempre guarda adesso te lo questo è un'installazione ci tenevo a spiegare questo è il pavimento che è 5 metri adesso qua ci sono tutte le misure bello quanti ne hai fatti di questi sei e basta vedi queste sono un anno di materiali che utilizzo io per il mio diabete e le ho tenuti tutti poi ho scritto su un papiro state registrando? parliamo adesso allora dunque spiegami questa cosa allora questa è la mostra essenziale e invisibile agli occhi è un dialogo con canzinski la villa reale e quindi guarda praticamente vedi questo io ho raccolto tutto ciò che utilizzo per il diabete in un anno ho tenuto tutto non ho buttato via niente poi ho attaccato questo papiro che è l'origine di carta e numeri e ho scritto questi calcoli che sono io per 5 iniezioni al giorno moltiplicato per 365 giorni l'anno moltiplicato per il numero di diabetici al mondo da un numero impronunciabile di questi cerchi quindi la mia non è una denuncia però è una sensibilizzazione al fatto che comunque c'è questa malattia se non ha una vera trasformazione è una vera soluzione è perché comunque insomma si usa tanto materiale e quindi ho voluto far ragionare e sensibilizzare questa è un'altra cosa stupenda degli artisti che sono portati e hanno l'occasione e il dovere e dire delle cose che magari passano inosservate o semplicemente a qualcuno fa comodo non farle osservare sono d'accordissimo sì questo è stato proprio un dialogo con Kandinsky perché per assurdo Kandinsky provava a tracciare il suono mentre io in questo caso sto cercando di tracciare il tempo infatti si chiamano timelines perché comunque sono un archivio dell'archivio cioè il periodo temporale dove è uscita una determinata mostra piuttosto che una determinata serie di lavori e qui per esempio ho realizzato solo i breaking through quindi il pannello di legno schizzi sopra e pavimento sporco a questo te li faccio vedere che sei di là e ti faccio vedere anche gli altri breaking through che vedi questo è il dettaglio del pavimento che bello è pazzesco anche lì vedi nell'angolo dello studio te lo faccio vedere dal vivo questi sono tutti rimbalzi dei quadri dei pugni e questo effetto in pittura non si potrà mai più ottenere infatti vedi mi sono messo delle cose che volevo con questo effetto perché comunque in pittura è un effetto che non si potrà mai avere questi sono tutti rimbalzi a gocce dei 100 breaking through che ho realizzato qua dentro come vedi ed è una texture pazzesca pensa che vedi anche col lavoro nuovo non sono riuscito a coprirla perché non riesco a fermare questa cosa quando lascerò questo studio so che piangerò in quest'angolo tantissimo beh non lo devi lasciare perché è un'opera d'arte anche questa è un'opera d'arte anche questa